Sono passati pochi giorni dalla grande manifestazione avvenuta all'Aquila contro la restituzione delle tasse che ha portato in piazza circa 5.000 persone. Entro due giorni si concluderà il pronunciamento del TAR sul ricorso presentato da associazioni di categorie e imprese contro la restituzione delle tasse sospese nel cratere del terremoto 2009 a circa 350 aziende e partite IVA, richiesta dalla Commissione Europea. È il termine entro il quale i giudici amministrativi in conclusione dell'udienza all'Aquila si sono riservati una decisione. I ricorrenti si ritengono soddisfatti della discussione avuta in udienza e sono ottimisti per poter ottenere una sospensiva delle cartelle sartoriali notificate dalle passate settimane. Sono stati almeno sette ricorsi discussi, tutti contro la restituzione delle tasse, nei quali si impugna la nomina da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per commissario per recupero che, nelle passate settimane, ha notificato cartelle sartoriali per compressivi circa 100 milioni di euro. Grazie a tutti.